Dopo Germania e Belgio, anche in Italia sembra vicino il blocco di Uber Pop su tutto il territorio nazionale. La decisione arriva dal Tribunale di Milano e sta in una sentenza che ha accolto il ricorso presentato un mese fa dai tassisti contro il servizio fornito dalla app per smartphone che mette in contatto utenti e automobilisti, permettendo di fatto a chiunque di fare il tassista low cost con la propria auto. Gli autisti di Uber possono risparmiare sui costi perché operano senza licenza. Così il giudice Claudio Marangoni della sezione imprese del Tribunale, nelle motivazioni, ha dato ragione alle organizzazioni sindacali dei tassisti e radiotaxi, accertando la concorrenza sleale e la violazione della disciplina amministrativa che regola il settore taxi. Una vittoria per la categoria dopo un anno di battaglie da quando Uber Pop è approdata in Italia. Era ora che qualcuno si muovesse, abbiamo dovuto aspettare un giudice, perché aspettavamo le istituzioni e stavamo ancora aspettando adesso. Un primo round vinto dopo due anni che è una legge molto chiara e loro vanno contro la legge, poi se la legge è da cambiare e da migliorare se ne può parlare magari, ma in questo momento sono due anni che sono abusivi. La legge è la numero 21 del 92 che regolamenta i trasporti pubblici non di linea, i taxi, appunto, violata da Uber. Il Tribunale ha disposto il blocco della app su tutto il territorio nazionale con inibizione alla prestazione del servizio. L'azienda avrà 15 giorni per adeguarsi, poi scatteranno eventuali penali con multe fino a 20.000 euro al giorno. Adesso noi vigileremo anche attraverso i nostri legali sull'applicazione del provvedimento e soprattutto abbiamo delle vedette che sono i nostri taxisti associati sul territorio. Uber Pop intanto continuerà ad operare per le prossime due settimane in Italia. L'azienda ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza. Una decisione che rispettiamo ma che non comprendiamo, ha detto Zak De Kiewit, direttore di Uber in Europa, ricordando un'indicazione della Commissione europea agli Stati membri a non discriminare nuovi servizi basati sulla tecnologia come Uber. La partita potrebbe essere tutt'altro che chiusa.